Dio c'è accanto anche nei momenti in cui ci sentiamo soli, soprattutto quando siamo tentati di arrenderci alle difficoltà della vita. È una certezza quella che il Papa offre all'Angelus. Francesco esorta a respingere la tentazione di considerarci sicuri di noi stessi, facendo a meno di Dio, perché quando ritroviamo il coraggio di riconoscerci per ciò che siamo, scopriamo le nostre fragilità, debolezze e paure. Questo spiega perché tante persone, cercando una via di uscita, imboccano a volte pericolose scorciatoie, come ad esempio il tunnel della droga o quello della superstizione o di rovinossi rituali di magia. È buono conoscere i propri limiti, le proprie facilità. Dobbiamo conoscerle, ma non per disperarci, ma per offrirle al Signore. E Lui ci aiuta nella via della guarigione, ci porta per mano, ma mai ci lascia da soli, mai. Al termine della preghiera dell'Angelus, Papa Francesco ha rivolto un saluto particolare agli universitari che hanno partecipato all'evento Vatican Hackathon, che si è concluso ieri. L'iniziativa è stata promossa dal Dicastero per la comunicazione e ha vissuto quest'anno la sua prima edizione. Un saluto speciale rivolgo agli studenti universitari provenienti da diverse parti del mondo e riuniti nel primo Vatican Hackathon, promosso dal Dicastero per la comunicazione. Cari giovani, è bello mettere l'intelligenza che Dio ci dona a servizio della verità e dei più bisognosi.